Musica Bentrovati a tutti voi gentili amici, edizione odierna del notiziario del Lodigiano che apriamo dedicando spazio alla celebrazione della giornata della memoria. Questa mattina all'auditorium Zalli, la cerimonia organizzata dalla prefettura di Lodi. Al centro i giovani studenti delle scuole del nostro territorio che hanno conosciuto e con il quale hanno potuto dialogare Mario D'Angelo, che venne catturato dai tedeschi, lo ricordiamo, in Jugoslavia dopo l'8 settembre del 1943 per essere deportato e internato a Buchenwald, luogo dal quale tornò nel 1945. Giorno della memoria per non dimenticare e sono state proprio le nuove generazioni alle quali vanno trasmessi il patrimonio e il valore della memoria, le protagoniste della cerimonia organizzata all'auditorium Tiziano Zalli dalla prefettura di Lodi. I giovani studenti delle scuole del Lodigiano hanno presentato davanti al sindaco Ugetti, al vescovo Monsignor Malvestiti e alle autorità civili del nostro territorio, brani musicali, elaborati, disegni, poesie sui fatti accaduti durante la Shoah. Le hanno intervistato Mario D'Angelo, catturato dai tedeschi in Jugoslavia dopo l'8 settembre del 1943, deportato a Buchenwald, da dove tornò nel luglio del 1945. Un giorno di prigionia può fare chiunque per sbaglio, ma fare 20 mesi di prigionia come avevo fatto io non si può dimenticare. È una cosa fatta poi in quella maniera, dove mancava tutto, le più elementari cose, per cui a noi non era permesso niente, era solo permesso prendere delle botte e lavorare 12 ore al giorno, mangiare pochissimo finché non si moriva. Cosa succedeva in quei posti, in quei campi, era talmente violento e talmente inaccettabile che io posso dirlo con cognizione di causa che il D'Angelo che è uscito da quei campi non era lo stesso di quello che è entrato, era un altro. Perché è importante che le giovani generazioni ricordino, non dimentichino? È importante per tantissimi motivi, ma il principale è quello sulla base di quello che si sa, di quello che è successo, si faccia in modo che queste cose non accadano più. È necessario, è utile, specialmente per i giovani, rinnovare tutti gli anni questa manifestazione. Cambiamo argomento, parliamo della provincia di Lodi e della delicata questione riguardante il futuro occupazionale del personale dipendente. Quest'oggi ci siamo recati nella sede della provincia per parlare con il presidente Mauro Soldati perché ci aggiornasse sulla situazione. Sentiamo cosa ci ha risposto. Nello stato attuale siamo giunti al punto in cui a fronte dell'obbligo di mantenere la spesa del personale entro il limite del 50% di quella che era la spesa alla data di entrata in vigore della legge del Rio fa sì che la dotazione organica della provincia di Lodi in circa un anno e mezzo è scesa da 235 dipendenti agli attuali 145. Quindi una fuoriuscita significativa di personale che è stato ricollocato presso i tribunali, presso altri enti comunali o in alcuni casi anche se è rescisso il contratto perché ci si è rivolti a un contratto di natura privata. È chiaro che a fronte di competenze che ad oggi ripermangono sull'istituzione provincia si registra una difficoltà gestionale quotidiana sulla quale è opportuno intervenire. Tant'è vero che anche qui diventa ormai urgente definire i termini dell'intesa anche con Regione Lombardia per quanto riguarda il personale che lavora sulle funzioni delegate dalla stessa Regione. Sotto questo aspetto quali tempi si possono ipotizzare? Avevamo sentore di poter chiudere nei giorni scorsi attraverso un incontro bilaterale con Regione Lombardia che però di fatto si è risolto in una ricognizione di natura tecnica. Ogni provincia ha evidenziato criticità, difficoltà, problemi ma l'elemento ancora che preoccupa è che la chiusura di questa intesa bilaterale è rimandata a data da destinarsi. Noi complessivamente stiamo parlando quindi del personale che lavora sui servizi sociali, sulla cultura, sul turismo, sui centri per l'impiego, sull'agricoltura che ancora oggi, ancora che sia una funzione richiamata a casa dalla Regione, permane in provincia almeno fino al primo aprile del 2016. Ci sono poi altre funzioni che riguardano la protezione civile, il turismo, anch'esse non ancora definite nell'intesa bilaterale, ragione per cui sentiamo l'esigenza di far presto per garantire servizi e anche stabilità al personale che rimane appeso a un'ipotetica collocazione in piattaforma senza una destinazione. Allora è importante definire questa intesa perché ci sono i servizi da fare. È una situazione che destano poche preoccupazioni. Lega Ambiente ha scritto ai sindaci dei capoluoghi Lombardi e a quelli della città metropolitana, tra di essi il sindaco di Lodi Simone Uggetti, per invitare che vengono attuate misure immediate sottoscrivendo protocolli tra le varie amministrazioni. Otto le misure da adottare, secondo Lega Ambiente, che ha scritto appunto in questo comunicato, per tutelare la salute dei cittadini e contribuire anche all'abbassamento dei livelli di inquidiamento da polveri sottili. Quali le misure dunque? Incentivare l'uso dei mezzi pubblici agevolando nelle tariffe, vietare i parcheggi all'ingresso delle scuole, favorendo iniziative come il pedibus e l'uso della bicicletta, controllare caminetti, stufe a legna, caldaia, gasolio e auto inquinanti, oltre a far rispettare quelli che sono i limiti di velocità e dal decimo giorno consecutivo di superamento dei limiti di polveri sottili nell'aria, bloccare il traffico in fasce orarie predefinite e aumentando il numero delle corse dei mezzi pubblici. Secondo il sindaco di Lodi Simone Ugetti, l'amministrazione ha sempre visto con favore l'adozione di misure contro l'eccessivo inquinamento atmosferico, purché a condizione siano efficaci, ma le misure, secondo Ugetti, devono coinvolgere aree molto più vaste rispetto alla sola area della città di Lodi, per esempio, possibilmente tutta la Lombardia. Passiamo adesso ad un altro tema, parliamo del sinodo sulla famiglia e di quelle che sono state le conclusioni dell'assise che si è svolta a Roma in Vaticano, i temi affrontati in questa occasione. Del documento finale ha parlato nei giorni scorsi il cardinale Dionigi Tettamanzi, invitato dall'Ufficio per la Pastorale Familiare. Il cardinale Dionigi Tettamanzi è intervenuto a Lodi per parlare della relazio finalis e del sinodo dedicato alle famiglie. Introducendo i lavori, il vescovo di Lodi, Monsignor Maurizio Malvestiti, ha ribadito la volontà e l'impegno della diocesi di rimanere al fianco delle famiglie e dell'uomo e della donna nella loro centralità di interpreti e custodi della creazione. L'ampia relazione sviluppata dal cardinale Tettamanzi ha toccato diversi aspetti e temi legati alla famiglia, anche il rapporto con le esigenze della società, la formazione di responsabili che operino nell'ambito della pastorale familiare, fino alla corresponsabilità di sacerdoti laici. Il matrimonio è gesto della misericordia di Dio dove ciascuna famiglia è piccola chiesa. La famiglia viene chiamata ed è in realtà ecclesia, piccola chiesa, chiesa domestica. In questo senso anche la famiglia entra nella chiesa e entra nel senso di ricevere e di dare, di dare e di ricevere. Non sono mancati riferimenti alle famiglie ferite nel vincolo del matrimonio, ovvero separati, divorziati e risposati. Due sono gli elementi, il primo è l'integrità, ovvero che le famiglie ferite sono riconosciute dalla chiesa come componenti, non ne sono al di fuori. L'altro aspetto deve essere quello del discernimento per il quale, attraverso il colloquio con un sacerdote, si arrivi a un giudizio corretto su ciò che ostacola una partecipazione che sia adeguata alla vita della chiesa, riscoprendo il sacramento del matrimonio come gesto della misericordia di Dio che comporta anche il riconoscimento del proprio sbaglio. A proposito delle unioni civili, esse non vanno confuse con il matrimonio, mai confondere l'inconfondibile. E a questo proposito il Cardinal Tettamanzi ha citato la Relatio Finalis del Sinodo al punto 76 per parlare del tema di equiparazione al matrimonio delle unioni tra persone omosessuali. Non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia. Da questo punto di vista, se si interviene sulle unioni civili, non si deve mai dimenticare che queste persone coinvolte in simili unioni sono persone umane, sono figli di Dio e come dice Papa Francesco sono proprio per questo amati dal Signore. E sulla questione delle adozioni. Poi c'è un altro e ultimo problema che vorrei sottolineare riguardo ai diritti. In maniera particolare vorrei sottolineare che un diritto che chiede di essere fatto emergere con grande centralità ed è il diritto dei figli, il diritto dei bambini, il problema dell'adozione. I diritti dei deboli non sono affatto diritti deboli. Anzi, in questo caso i diritti dei bambini precedono i diritti di tutti gli altri. Si chiude qui questa nostra edizione del Notiziario. Grazie a voi tutti per averci seguito e arrivederci a domani. Grazie a tutti.